No, ancora non è fatto, però... Chi ha parlato dietro? Non si sa. Pronto? Non si sa, non si sa. Si ha sentito qualcosa dietro. Chi ha parlato? Non si sa. Mi sa che ci sono dei problemi tecnici. Chi è che ha parlato? Un insulto. Mi sa che ci sono problemi tecnici. Sì, forse ci sono delle interferenze. Delle interferenze allo stadio. Benatia non eravamo noi, chiaramente, se si trattava di un insulto, però se ci sono problemi tecnici è meglio chiudere questo collegamento. Grazie comunque a Dario Moricone, Benatia, per essere stato con noi. Insulto a parte, che non fa parte del nostro modo di essere.